Ragazzi, un saluto dal vostro amato, amatissimo Bianconego. Come va, come state, spero bene. La partita è terminata, come ben sapete, Juventus 3, Atalanta 3. Una partita tanta rembante che poteva terminare in maniera totalmente diversa. A me, sinceramente, dispiace perché la Juventus ha avuto delle ottime chance da gol, come le ha avute anche, giustamente, l'Atalanta. Infatti, entrambe le squadre sono state molte cazzute in campo, specialmente l'Atalanta, subito dopo 4 minuti inizia partita a gol a causa di una proprio papera madonnale di Scesni. Subito dopo segna la Juve con Di Maria sul calcio di rigore. Fine primo tempo 2-1 Juve, Arek Milik. Secondo tempo 3-2 Atalanta, 2-1 Juve, 2-2, 3-2 Atalanta. No, non può, non può succedere una cosa del genere. 3-3, segna Danilo su punizione. Va bene, va bene. Adesso ascoltiamo, guardiamo la partita. Fischio finale, 3-3. Nulla di nuovo. Va bene. Sinceramente, come ha detto giustamente Allegri in conferenza stampa qualche giorno fa, se non erro, la Juventus deve scendere, dovrà scendere in campo contro l'Atalanta. molto cazzuta. Sarà una partita importante, perché adesso noi abbiamo realizzato tutto ciò che è successo. Ragazzi, 15 punti tolti sembrano pochi, ma per noi, veramente, ragazzi, sono tanti. Poi, questi imbrogli, ricordiamo che non è stata solo la Juve a falli, a commetterli, però sono state anche altre squadre di Serie A. Chissà perché non sono mai state punite, quindi hanno avuto soltanto preferenze. Io, comunque, ragazzi, il video lo concludo qua, fatemi sapere se volete. È stata una partita in cui entrambe le squadre, comunque, hanno giocato un ottimo calcio, specialmente l'Atalanta. Però, vabbè, adesso un ottimo calcio non esageriamo. Però, ragazzi, di risultati, sia per la Juve, sia per l'Atalanta, si sono visti. È come se si sono visti. Il bianconero dice non tocchiamo mai il fondo. 16 punti alla Juve, poco, molto poco.